capitolo 19 cosa aveva fatto cosa diavolo aveva fatto il cuore gli batteva all'impazzata mentre imboccava alla cieca prima una via e poi un'altra cercando di dare un senso alle sue azioni non riusciva a pensare con lucidità ma avvertiva l'orribile sensazione di aver oltrepassato un limite dal quale non si poteva tornare indietro il viale gli pareva pieno di occhi c'erano pochi pedoni e pochi automobilisti in giro ma i loro sguardi sembravano carichi d'ira Coriolanus si infilò in un parco e si nascose nell'ombra su una panchina circondata dai cespugli si impose di controllare il respiro contando fino a quattro prima di ogni ispirazione ed espirazione fino a che il sangue non smise di martellarli nelle orecchie poi tentò di pensare razionalmente d'accordo aveva lasciato cadere nella vasca dei serpenti il fazzoletto con l'odore di lucy gray quello che stava nella tasca esterna del suo zaino l'aveva fatto per evitare che la mordessero come avevano fatto con clemenzia per evitare che la uccidessero perché teneva a lei o perché voleva che vincesse gli hunger games in modo da fargli ottenere il premio plint se la ragione era questa aveva imbrogliato per vincere fine della storia aspetta tu non sapevi se la destinazione di quei serpenti sarebbe stata l'arena pensò anzi le assistenti gli avevano dato una risposta diversa non esistevano precedenti per una cosa del genere forse si era trattato solo di un istante di follia e anche se i serpenti fossero davvero finiti nell'arena magari lucy gray non li avrebbe mai incontrati era un posto enorme e lui non credeva che i serpenti se ne andassero in giro ad assalire gente a destra e a sinistra magari sarebbero stati calpestati o roba così e anche se lei si fosse imbattuta in un serpente e il serpente non l'avesse morsa chi mai avrebbe potuto collegare quel fatto a lui richiedeva conoscenza e accesso a livelli di sicurezza elevatissimi che nessuno gli avrebbe mai attribuito e un fazzoletto con l'odore di lucy gray perché mai avrebbe dovuto averlo non era un problema lui non avrebbe avuto problemi tranne quel limite che qualcuno ricostruisse le sue azioni oppure no lui sapeva di averlo superato anzi di essere stato sul punto di superarlo già da un po come quando aveva rubato il cibo di seianus dalla mensa per darlo a lei era stata un'infrazione lieve motivata dal suo desiderio di tenerla in vita e dalla sua rabbia per l'incuria degli strateghi in questo caso se ne poteva fare una semplice questione di correttezza ma non era un incidente isolato ora riusciva a vederla la china scivolosa delle ultime settimane iniziata con gli avanzi di seianus e colminata con lui lì a rabbrividire al buio su una panchina solitaria del parco cosa lo aspettava più in là lungo quella china se non fosse riuscito ad arrestare la sua discesa di cos'altro sarebbe stato capace beh la faccenda finiva lì si chiudeva in quel momento se non aveva onore non aveva niente basta con gli inganni basta con le strategie ambigue basta con le spiegazioni razionali d'ora in poi avrebbe vissuto onestamente e se fosse finito a chiedere l'elemosina perlomeno sarebbe stato un mendicante corretto i piedi lo avevano portato lontano da casa ma a pochi minuti di distanza dal palazzo dei plint perché non farci un salto una senza voce indivisa da domestica aprì la porta e a gesti gli domandò se doveva prendere il suo zaino lui rifiutò e chiese se seianus era impegnato la donna lo guidò in salotto e gli fece cenno di accomodarsi mentre aspettava coriolanus ammirò l'arredamento con occhio esperto mobili raffinati tappeti spessi tapezzerie ricamate il busto in bronzo di qualcuno se l'esterno dell'appartamento non colpiva particolarmente per l'interno non avevano badato a spese ai plint serviva solo un indirizzo sul corso per consolidare il loro prestigio la signora plint entrò in tutta fretta piena di scuse e di farina a quanto pareva seianus era andato a dormire presto e lui l'aveva sorpresa in cucina voleva scendere un momento al piano di sotto a bere una tazza di tè o forse poteva servirgli il tè in salotto come avevano fatto le due snow no no la rassicurò a lui la cucina sarebbe andata benissimo come se esistesse qualcuno che serviva un ospite in cucina a parte un plint ma lui non era andato lì per giudicare era andato lì per essere ringraziato e se questo avesse compreso torta o biscotti tanto meglio ti va della crostata ne ho una alle more o alla pesca se puoi aspettare accennò a un paio di crostate appena fatte che stavano sul bancone in attesa del forno o magari un dolce ho preparato dei budini alla crema oggi pomeriggio sono quelli che piacciono di più ai senza voce perché sono facili da deglutire sai caffè tè o latte le rughe tra le sopracciglia di ma si fecero più profonde per l'ansia come se niente di ciò che poteva offrire fosse abbastanza buono anche se aveva già cenato i fatti accaduti alla cittadella e la camminata lo avevano prosciugato o latte per favore e la crostata alle more sarebbe un vero regalo nessuno può competere con la sua cucina ma riempì un grosso bicchiere fino all'orlo tagliò un intero quarto di crostata e lo mise su un piatto ti piace il gelato chiese seguirono parecchie cucchiaiate di vaniglia poi la donna accostò una sedia al tavolo di legno stranamente semplice collocato sotto un ricamo incorniciato di un panorama montano con una sola parola casa me lo ha mandato mia sorella lei è l'unica con cui mi tengo in contatto ormai o che si tiene in contatto con me non si adatta molto al resto della casa ma qua giù ho il mio angolino privato prego siediti mangia il suo angolino privato vantava il tavolo con tre sedie spaiate il ricamo e uno scaffale pieno di piccoli oggetti bizzarri una saliera e una pepiera a forma di gallo un uovo di marmo e una bambola di pezza con i vestiti rattoppati coriolanus sospettava che rappresentassero tutti gli averi che si era portata da casa il reliquiario dedicato al distretto 2 era penoso il modo in cui si aggrappava a quell'arretrata regione di montagna povera emigrata senza la minima speranza di integrarsi che passava le sue giornate a preparare budini per senza voce che non ne avrebbero mai sentito il sapore e a struggersi per il passato la guardò a far scivolare le crostate nel forno e diede un morso alla sua fetta le papille gustative gli formicolarono di piacere com'è chiese la donna con aria ansiosa superba disse come tutto quello che cucina lei signora plint non era affatto un'esagerazione ma poteva anche essere patetica però in cucina era una specie di artista lei si concesse un piccolo sorriso e lo raggiunse a tavola e beh se mai ti andasse un bis la nostra porta è sempre aperta coriolanus non so nemmeno da dove cominciare per ringraziarti per quello che hai fatto per noi seianus è la mia vita mi dispiace che non possa fare due chiacchiere con te ha preso un bel po di quel sedativo sembra che non riesca a dormire se no è arrabbiato sperduto beh non devo raccontare a te quanto sia infelice capital city non è proprio la scelta migliore per lui disse coriolanus per nessuno di noi plinti in realtà strabo dice che anche se adesso per noi è dura andrà meglio per i seianus e i suoi figli ma io non lo so lanciò un'occhiata allo scaffale la famiglia e gli amici sono quelli la vera vita di chiunque coriolanus e noi abbiamo lasciato l'uno e gli altri nel due ma tu questo lo sai già lo percepisco sono felice che tu abbia una nonna e quella deliziosa cugina coriolanus si ritrovò a tentare di tirarle sul morale dicendole che le cose sarebbero migliorate una volta che seianus si fosse diplomato all'accademia all'università c'erano più studenti e tante tipologie diverse di persone provenienti da tutta capital city e lì si sarebbe fatto di sicuro dei nuovi amici la signora plinta nuiva ma non sembrava convinta la cameriera senza voce attirò la sua attenzione e le comunicò qualcosa con una specie di lingua dei segni va bene arriverà quando avrà finito la sua crostata disse la signora plinta alla ragazza poi rivolto a coriolanus mio marito vorrebbe vederti se a te non dispiace credo voglia ringraziarti dopo aver ingoiato l'ultimo boccone di crostata coriolanus augurò la buonanotte a ma e seguì la cameriera su per le scale fino al piano terra i folti tappeti attutivano il rumore dei loro passi sicché arrivarono alla porta aperta della biblioteca senza preavviso e coriolanus riuscì a vedere strabo plint con la guardia abbassata l'uomo era in piedi davanti a un elegante caminetto di pietra l'alta figura sostenuta da un gomito posato sulla mensola e fissava al punto che in un'altra stagione avrebbe ospitato il fuoco ora però il focolare era freddo e vuoto e coriolanus fu costretto a chiedersi cosa vedesse lì per avere quell'espressione di profonda tristezza sul viso una mano stringeva il bavero di velluto della costosa giacca da camera che su di lui sembrava del tutto sbagliata come l'abito firmato della signora plint o il completo di seianus il guardaroba dei plint faceva sempre pensare che si sforzassero troppo di apparire di capital city l'indiscutibile qualità degli abiti stonava con la loro identità dei distretti invece di celarla proprio come la signora nonna anche vestita con un sacco di farina avrebbe comunque urlato corso il signor plint incrociò il suo sguardo e coriolanus provò la sensazione che ricordava dall'epoca dei suoi incontri con il padre un mix di agitazione e imbarazzo come se fosse stato appena sorpreso a fare qualcosa di stupido a ogni modo quell'uomo era un plint non uno snow coriolanus si produsse nel suo miglior sorriso mondano buonasera signor plint la disturbo per niente entra siediti il signor plint indicò le poltrone di cuoio di fronte al caminetto invece delle sedie davanti alla sua imponente scrivania di quercia sarebbe stato un colloquio personale allora non d'affari hai mangiato certo che sì non puoi uscire dalla cucina senza che mia moglie ti farcisca come un tacchino qualcosa da bere un whisky magari gli adulti non gli avevano mai offerto da bere niente di più forte della posca che già gli andava alla testa abbastanza in fretta non poteva correre quel rischio non saprei dove metterlo disse con una risata battendosi lo stomaco mentre si accomodava sulla poltrona ma prego lei faccia pure o io non bevo il signor plint si piegò sull'altra poltrona ed esaminò coriolanus somiglia a tuo padre lo sento dire molto spesso replicò lui lo conosceva le nostre attività coincidevano a volte tamburellò le lunghe dita sul bracciolo la somiglianza impressionante ma tu non sei come lui in realtà no pensò coriolanus io sono povero e senza potere anche se forse la diversità che il signor plinta avvertiva poteva rivelarsi utile agli scopi di quella sera con tutto il disprezzo che nutriva per i distretti suo padre avrebbe detestato vedere strabo plinta accanto a capital city e diventare un colosso nel comparto delle munizioni non era per quello che aveva dato la vita in guerra no assolutamente no o non saresti mai entrato in quell'arena per correre dietro a mio figlio proseguì il signor plint impossibile immaginare crassus snow che rischia la pelle per me continuo a chiedermi perché l'abbia fatto tu non ho avuto molta scelta in realtà riflette coriolanus tra sé è mio amico disse a prescindere da quante volte lo sento dire crederci è difficile ma seianus ti ha scelto fin dall'inizio forse hai preso da tua madre lei era sempre gentile con me quando venivo qui per affari prima della guerra nonostante le mie origini una signora fatta e finita non l'ho mai dimenticato lanciò uno sguardo duro a coriolanus sei come tua madre tu il colloquio non stava andando come coriolanus si era immaginato a che punto si sarebbe parlato di una ricompensa non poteva farsi convincere ad accettarla se non gli veniva nemmeno offerta mi piace pensare di esserlo sotto certi aspetti sotto quelli aspetti chiese il signor plint gli sembrò una domanda strana in che modo poteva essere come quell'affettuosa amorevole creatura che ogni sera cantava per farlo addormentare beh condividevamo la passione per la musica davvero a lei piaceva la musica e in fondo lui non la odiava ecco musica ripete il signor plint come se coriolanus avesse detto qualcosa di inconsistente quanto una nuvola ci accomunava la convinzione che la fortuna fosse qualcosa da ripagare giorno dopo giorno da non dare per scontata aggiunse non aveva idea di cosa significasse ma il signor plint parve capirlo ci pensò su lo credo anch'io ah bene sì beh quindi seianus gli ricordò coriolanus il viso del signor plint appariva stanco seianus a proposito ti ringrazio per avergli salvato la vita non c'è bisogno di ringraziarmi come ho detto è mio amico adesso era il momento il momento dei soldi del rifiuto dell'incoraggiamento dell'accettazione ottimo beh immagino che dovrai andare a casa il tuo tributo è ancora nei giochi vero chiese il signor plint confuso da quel concedo coriolanus si alzò dalla poltrona oh sì ha ragione volevo solo sapere come stava seianus tornerà a scuola presto non si sa rispose l'uomo ma grazie per essere passato certo gli dica che sentiamo la sua mancanza concluse coriolanus buonanotte notte il signor plint gli rivolse un cenno della testa niente soldi neanche una stretta di mano coriolano sushi sorpreso e deluso il pesante pacchetto pieno di roba da mangiare e l'autista incaricato di portarlo a casa in macchina furono un discreto premio di consolazione ma alla fin fine la sua visita era stata uno spreco di tempo soprattutto quando lo aspettava ancora il tema per la dottoressa gol la bella appendice alla tua richiesta di candidatura al premio perché doveva essere sempre tutto in salita per lui coriolanus disse a tigris di essere stato da seianus e lei non lo incalzò per avere ulteriori spiegazioni del suo ritardo gli preparò una tazza del tè speciale al gelsomino era un lusso come scialacquare i gettoni ma ormai a chi importava si mise al lavoro scrivendo le tre parole con la c su un pezzo di carta caos controllo e qual era la terza a si contratto cosa accadeva se nessuno esercitava un controllo sull'umanità era quello l'argomento che avrebbe dovuto affrontare aveva già detto che senza controllo si precipitava nel caos e la dottoressa gol gli aveva suggerito di partire da lì caos disordine e confusione estremi come essere nell'arena aveva detto la dottoressa gol una splendida opportunità l'aveva definita di trasformarti coriolanus pensò a com'era stato trovarsi nell'arena un posto in cui non esistevano regole leggi o conseguenze per le azioni compiute l'ago della sua bussola morale aveva preso a ruotare all'impazzata senza direzione spinto dal terrore di essere preda aveva fatto presto a diventare predatore lui stesso e ad ammazzare bobbin senza alcuno scrupolo si era trasformato d'accordo ma non in qualcosa di cui andasse fiero e dire che in quanto snow aveva più autocontrollo di chiunque altro provò a immaginare come sarebbe stato se tutti avessero seguito quelle stesse regole nessuna conseguenza persone che si prendevano quello che volevano quando volevano e uccidevano per averlo se necessario la sopravvivenza come motore di ogni cosa durante la guerra c'erano stati giorni in cui avevano troppa paura per uscire di casa giorni in cui l'anarchia aveva trasformato persino capital city in un'arena sì l'assenza di norme ecco qual era il nocciolo del problema perciò le persone dovevano concordare su un insieme di leggi da seguire era quello che aveva inteso la dottoressa goal con l'espressione contratto sociale l'accordo di non derubarsi usare violenza o uccidersi gli uni con gli altri doveva essere così e dal momento che la legge andava applicata era lì che entrava in gioco il controllo senza il controllo a far rispettare il contratto regnava il caos il potere che aveva il controllo poi doveva essere più grande degli individui o questi lo avrebbero sfidato ne conseguiva che l'unica entità in grado di esercitare il controllo era capital city erano le due del mattino quando finì di chiarire quanto aveva in mente in una pagina scarsa la dottoressa goal avrebbe preteso di più ma per quella sera non sarebbe riuscito a produrre altro si trascinò a letto dove sognò lucy gray braccata dai serpenti molti colori si svegliò di soprassalto tremante alla melodia dell'inno devi proprio darti una calmata si disse i giochi non dureranno ancora per molto le prelibatezze per la colazione che gli aveva dato la signora plint lo aiutarono a entrare nel quarto giorno degli hunger games sul tram si rimpinzò con una fetta di crostata alle more un panino con la salsiccia e una tortina al limone tra i giochi e i plint i pantaloni cominciavano a stringergli in vita avrebbe fatto uno sforzo e sarebbe tornato a casa a piedi dei cordoni di velluto isolavano il settore del palco con gli otto mentori rimanenti e allo schienale della sedia adesso era appeso un cartello con il nome dell'occupante posti assegnati una novità ma forse un tentativo di mitigare un po la tensione degli ultimi giorni coriolanus restava in seconda fila tra io e urbanus il povero festus invece era schiacciato tra vipsania e clemenzia lucky diede il benvenuto al pubblico insieme all'infinitamente tollerante giubili ora confinato in una gabbia più adatta a un coniglio che a un pappagallo nell'arena non si muoveva nulla e i tributi sembravano voler dormire fino a tardi l'unico sviluppo era che qualcuno probabilmente mortifer aveva trascinato il corpo di jessup sino alla fila dei caduti vicino alla barricata coriolanus attendeva nervoso l'annuncio della morte di gaius brin ma nulla lasciava presagire che sarebbe stata data a breve gli strateghi ripresero per un po la folla che continuava ad aumentare di fronte all'arena ora i diversi fan club sfoggiavano magliette con le facce del tributo e del mentore e coriolanus si sentì sia compiaciuto sia imbarazzato nel vedere la sua immagine fissarlo dallo schermo gigante fu solo a metà mattina che apparve il primo tributo e al pubblico servì un momento per riconoscere chi fosse è uovi gridò ilarius sollevato è viva coriolanus se la ricordava scarna ma adesso era scheletrica le braccia e le gambe come stecchini le guance incavate nel suo sudicio abito a righe la ragazzina si accovacciò all'imbocco di un tunnel strizzando gli occhi per il sole e stringendo una bottiglia d'acqua resisti uovi arriva da mangiare disse ilarius digitando frenetico sul suo bracciale comunicatore non aveva molti sponsor ma c'era sempre qualcuno disposto a scommettere contro i pronostici lepidus piombò su ilarius che parlò a lungo dei meriti di uovi descrisse la sua lontananza dalla scena una strategia dell'invisibilità sostenendo che la loro tattica era stata quella fin dall'inizio cioè che si tenesse nascosta e lasciasse libero il campo e guardatela eccola qui tra gli ultimi otto quando cinque o sei droni attraversarono veloci l'arena diretti verso di lei ilarius si entusiasmò ancora di più adesso ha cibo e acqua non deve fare altro che prenderli e tornare a nascondersi i rifornimenti le piovero addosso e uovi sollevò le mani ma aveva un'aria stranamente stordita tastò il terreno fino a trovare una bottiglia e svitò il tappo a fatica dopo qualche sorso si accasciò di nuovo contro il muro e fece un piccolo rutto dall'angolo della bocca le colò un rivolo sottile di liquido quasi argentato e poi non si mosse più per un momento il pubblico rimase a guardarla senza capire è morta dichiarò urbanus no no non è morta sta solo riposando ribatte ilarius ma più a lungo uovi fissava la luce del sole a occhi spalancati più era difficile crederci coriolanus guardò con attenzione la sua saliva non limpida o sporca di sangue ma con un kiddi strano e si chiese se alla fine lucy gray fosse riuscita a sfruttare il topicida sarebbe stato facile avvelenare l'ultima sorsata d'acqua di una bottiglia e abbandonarla in uno dei tunnel la disperata uovi non ci avrebbe pensato due volte a mandarla giù ma nessun altro neppure ilarius sembrava vedere qualcosa di sospetto non lo so disse l'epidus a ilarius credo che il tuo amico potrebbe avere ragione attesero altri dieci interminabili minuti senza un guizzo di vita da parte di uovi prima che il suo mentore si arrendesse e allontanasse la propria sedia l'epidus lo riempì di elogi e ilarius per quanto deluso riteneva che le cose avrebbero potuto andare molto peggio è riuscita a resistere parecchio viste le sue condizioni vorrei che si fosse fatta vedere prima per darmi la possibilità di sfamarla ma penso di poter camminare a testa alta essere arrivato tra gli ultimi otto non è un risultato da buttare via coriolanus verificò mentalmente il suo elenco i due tributi del tre quelli del quattro trich e mortifer erano rimasti solo loro tra lucy gray e la vittoria sei tributi e una buona dose di fortuna per un po la morte di uovi passò inosservata nell'arena era quasi ora di pranzo quando mortifer uscì dalla barricata con il mantello bandiera ancora sulle spalle si avvicinò con cautela uovi ma la piccola non era stata una minaccia da viva e di certo non lo era da morta si accovacciò accanto a lei e raccolse una mela poi si accigliò e studiò il suo viso più da vicino lo sa pensò coriolanus o almeno sospetta che non sia stata una morte naturale il ragazzo lasciò cadere la mela sollevò uovi tra le braccia e si diresse verso i tributi morti lasciando il cibo e l'acqua a terra lo vedete disse clemenzia senza rivolgersi a nessuno in particolare lo vedete cosa devo sopportare il mio tributo è uno squilibrato penso che tu abbia ragione replicò festus scusa per prima e la storia finì lì la morte di uovi non suscitò alcun sospetto fuori dall'arena e all'interno solo mortifer pareva metterne in dubbio le cause lucy gray non era incline alla disattenzione forse aveva addirittura scelto la gracile uovi come obiettivo perché le sue condizioni già gravi avrebbero nascosto l'avvelenamento l'impossibilità di comunicare con lei per rivedere insieme la loro strategia esasperava coriolanus con così pochi avversari rimasti nascondersi era ancora la soluzione migliore o sarebbe stato meglio che lui si agisse in modo più aggressivo coriolanus non lo sapeva naturalmente poteva essere impegnata a piazzare cibo e acqua avvelenati in quel preciso istante nel qual caso le sarebbero serviti altri rifornimenti che però lui non avrebbe potuto farle avere se non si fosse mostrata benché non ci credesse tentò di comunicare con lei telepaticamente lascia che ti aiuti lucy gray o almeno fammi vedere che stai bene si disse poi nei suoi pensieri aggiunse mi manchi mortifer era già tornato ai tunnel quando i tributi del distretto 4 arrivarono a raccogliere il cibo di uovi la loro assoluta mancanza di preoccupazione riguardo all'origine di quel cibo rassicurò coriolanus sul fatto che la possibilità di un avvelenamento non era ancora evidente si sedettero proprio dove era morta uovi e divorarono fino all'ultima briciola ma poi tornarono con calma al loro tunnel midzen zoppicava avrebbe comunque superato quasi tutti i tributi rimasti se fossero arrivati allo scontro coriolanus si chiese se alla fine si sarebbe ridotto tutto a cora le midzen che decidevano quale tributo del distretto 4 avrebbe portato a casa la corona negli anni trascorsi a scuola coriolanus non aveva mai lasciato un pranzo a metà ma le ciotole di cartone piene di pasta condita con i fagioli gli diedero il volta stomaco ancora sazio della colazione dei plint non riusciva a inghiottirne nemmeno una cucchiaiata e ci volle il rapido scambio della sua ciotola intatta con quella vuota di festus per evitare un richiamo tieni per me i fagioli sanno ancora di guerra a me fa quell'effetto la farinata d'avena una sola annusata e mi viene voglia di nascondermi in un bunker disse festus che si sbarazzò in fretta del cibo supplementare grazie ho dormito troppo e ho saltato la colazione coriolanus sperò che i fagioli non fossero un cattivo presagio poi si rimproverò non era il momento di credere ai segni doveva mantenersi lucido rimanere presentabile per le telecamere e arrivare a fine giornata lucy gray doveva essere affamato ormai programmò la successiva consegna di cibo mentre sorseggiava la sua acqua con l'eliminazione di larius le tre sedie da mentore in seconda fila erano state ricentrate e coriolanus riprese posto nel mezzo come aveva detto domizia somigliava al gioco delle sedie e quelle erano proprio le persone con cui aveva giocato durante l'infanzia se avesse mai avuto figli l'intenzione c'era avrebbero fatto ancora parte dell'elite di capital city o sarebbero stati declassati ad ambienti inferiori sarebbe stato d'aiuto se avessero avuto una rete familiare più ampia a cui ricorrere ma lui e tigris erano gli unici snow della loro generazione senza di lei avrebbe dovuto affrontare il futuro da solo quel pomeriggio capitò ben poco nell'arena coriolanus aspettava lucy gray sperando di poterle inviare del cibo ma lei restava irraggiungibile l'emozione venne per la maggior parte dal pubblico fuori dall'arena quando i fan di coral si azzuffarono con quelli di trich riguardo a chi dei due fosse più meritevole di essere incoronato vincitore volò qualche pugno poi i pacificatori divisero i due gruppi e li spedirono ai lati opposti della folla coriolanus fu contento che i suoi di fan dimostrassero un po più di classe più tardi quando l'acchi riprese la diretta dallo studio la dottoressa gol era seduta di fronte a lui e reggeva la gabbia di giubili il pappagallo si dondolava avanti e indietro come un bimbo intento a trovare consolazione da solo l'acchi guardava il suo animale con una certa preoccupazione forse prevedendo di perderlo a favore dei laboratori oggi abbiamo un ospite speciale con noi il capo stratega alla dottoressa gol che sta facendo amicizia con giubili ho sentito che ha delle tristi notizie per noi dottoressa la donna spostò la gabbia di giubili sul tavolino sì a causa delle ferite riportate nell'esplosione di ordigni ribelli nell'arena è deceduto un altro nostro studente dell'accademia gaius brin coriolanus tentò di concentrarsi tra le grida che si alzavano dei suoi compagni era possibile che lo invitassero a commentare la morte di gaius da un momento all'altro ma non era quello il motivo della sua inquietudine elogiare gaius sarebbe stato abbastanza semplice non aveva un nemico al mondo credo di parlare a nome di tutti nel porgere le nostre più sentite condoglianza alla famiglia disse l'acchi il viso della dottoressa gol si indurì certo ma le azioni valgono più delle parole i nostri nemici ribelli sembrano un po duri d'orecchio in risposta quindi abbiamo organizzato qualcosa di speciale per i loro figli nell'arena vogliamo dare un'occhiata disse l'acchi al centro dell'arena tesli e sirk erano accovacciati sopra un mucchio di macerie occupati a frugare in cerca di chissà cosa a quanto pareva non erano minimamente interessati a mortifer che sedeva nella parte alta delle tribune dando le spalle all'arena avvolto nel suo mantello all'improvviso tric schizzò fuori da un tunnel e si avventò sui tributi del distretto 3 che scapparono verso la barricata dal pubblico giunsero dei mormori perplessi dove era il qualcosa di speciale promesso dalla dottoressa gol la risposta giunse con l'avvistamento di un enorme drone che entrava in volo nell'arena trasportando la vasca dei serpenti variopinti coriolanus si era quasi convinto che l'idea di un attacco con i serpenti fosse solo frutto della sua immaginazione sovrecitata ma l'ingresso della teca pose fine all'illusione il suo cervello aveva messo insieme i pezzi del puzzle proprio nell'ordine corretto quello che non sapeva era come avrebbero reagito i serpenti nell'essere liberati ma era stato nel laboratorio la dottoressa gol non allevava cagnolini da salotto lei progettava armi l'insolito contenitore attirò l'attenzione di tric forse pensava di essere lui il destinatario di un qualche dono super speciale perché si fermò quando il drone giunse al centro dell'arena anche tesli e sirk interruppero le loro ricerche e persino mortifer si alzò per osservare la consegna il drone lasciò andare la teca scoperta a una decina di metri da terra invece di fracassarsi all'impatto il contenitore rimbalzò poi come un fiore che apre i suoi petali le pareti ricadderò al suolo i serpenti sfrecciarono in tutte le direzioni creando una raggera multicolore nella polvere clemenzia balzò in piedi e mandò un urlo agghiacciante che per poco non fece cadere festus dalla sedia la sua reazione parve eccessiva visto che la maggior parte dei presenti cominciava appena ad assimilare il nuovo sviluppo cui aveva assistito sullo schermo temendo che clemenzia presa dal panico rivelasse l'intera storia coriolanus si alzò a sua volta e da dietro la circondò con le braccia senza sapere se quel gesto fosse destinato a confortarla o a bloccarla clemenzia si irrigidì però rimase muta non sono qui sono nell'arena le disse coriolanus all'orecchio sei al sicuro ma continuò a tenerla stretta mentre l'azione proseguiva era possibile che la provenienza di tricce dal distretto del legname gli avesse trasmesso un po di dimestichezza con i serpenti perché nell'attimo stesso in cui i rettili uscirono dalla vasca lui fece dietro front e corse a tutta velocità verso le tribune scalò la collina di detriti a balzi come una capra e continuò a muoversi saltando i sedili mentre saliva tesli e sirk pagarono a caro prezzo i loro pochi istanti di indecisione tesli raggiunse uno dei pali e riuscì ad arrampicarsi per qualche metro verso la salvezza mentre sirk inciampò su una vecchia lancia arrugginita e i serpenti gli furono addosso una ventina di lunghi denti lo trafisse e poi come se fossero già appagati i rettili passarono oltre il rosa il giallo e il blu del pus che fu riuscì dalle ferite striarono il corpo del ragazzino più piccolo di clemenzia con il doppio del veleno nell'organismo sirk si sforzò di respirare per circa dieci secondi prima di morire tesli rimase a fissare il suo cadavere singhiozzando di terrore aggrappata al palo gli eleganti rettili cominciarono ad ammassarsi sotto di lei ergendosi e danzando intorno alla base dell'asta la voce fuori campo di lucky rimbombò sulla scena cosa sta succedendo quelli sono ibridi sviluppati nei nostri laboratori di capital city disse al pubblico la dottoressa gol sono solo dei cuccioli ma da adulti saranno molto più veloci di un uomo e non avranno alcuna difficoltà a scalare quel palo sono progettati per dare la caccia agli esseri umani e per riprodursi rapidamente così da poter sostituire in fretta eventuali perdite a quel punto tric si era arrampicato sulla stretta sporgenza che sormontava il cartellone segnapunti e mortifer aveva trovato rifugio sul tetto della cabina stampa i pochi serpenti che erano riusciti a scalare le macerie e ad arrivare sulle tribune si radunarono sotto di loro i microfoni colsero il suono soffocato di un femminile hanno preso lucy grey pensò coriolanus disperato il fazzoletto non ha funzionato proprio in quel momento midzen schizzò fuori dal tunnel più vicino alla barricata seguito da una coral urlante dal suo braccio penzolava un solo serpente se lo strappò di dosso ma decine di altri rettili la salirono nel momento stesso in cui il loro simile toccava terra mirando alle gambe midzen gettò via il suo tridente e fece un gran balzo per raggiungere il palo di fronte a tesli nonostante il ginocchio malandato impiegò la metà del tempo di arrampicata rispetto alla precedente ascesa dalla cima assiste alla convulsa ma fortunatamente rapida fine di coral con gli obiettivi a terra già eliminati quasi tutti i serpenti si raggrupparono sotto tesli la ragazza cominciava a perdere la presa e gridò per chiedere aiuto a midzen ma lui scosse semplicemente la testa più per lo shock che per la crudeltà a quel punto gli spettatori cominciarono a zittirsi l'un l'altro anche se coriolanus non ne capiva il motivo quando la sala piombò nel silenzio colse ciò che avevano già captato orecchie più fini delle sue un filo di voce proveniente da qualche punto dell'arena qualcuno stava cantando la sua ragazza lucy gray emerse dal suo tunnel camminando molto ad agio con le spalle all'arena sollevava i piedi con la massima attenzione a ogni passo ondeggiando appena al ritmo della sua musica la 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 per il momento quello era il livello del testo e ciò nonostante risultava irresistibile quasi ipnotizzati dalla melodia cinque o sei serpenti seguivano la ragazza coriolanus lasciò andare clemenzia che si era tranquillizzata dandole una leggera spinta in direzione di festus avanzò fino allo schermo il fiato sospeso nel vedere lucy gray che continuava a camminare all'indietro per poi girarsi lentamente verso il punto in cui era stato deposto il corpo di jessup la sua voce si fece più forte a mano a mano che deliberatamente o meno arretrava in direzione del microfono forse per un'ultima canzone un'ultima esibizione nessun serpente sembrava avere intenzioni di attaccarla però anzi pareva fosse lei ad attrarli l'ammasso di rettili sotto il palo di tesli si ridusse alcuni si lasciarono cadere dalle tribune e una decina strisciò fuori dai tunnel per unirsi a una specie di migrazione generale verso lucy gray la circondarono affluendo da ogni parte e rendendole impossibile ritirarsi oltre i loro corpi dai colori vivaci le salirono ondeggianti sui piedi nudi avvolgendosi alle sue caviglie mentre lei si chinava pian piano su un grosso pezzo di marmo con la punta delle dita allargò le balze del vestito nella polvere come in un invito e quando i serpenti la ricoprirono il tessuto sbiadito scomparve lasciandole una gonna smagliante di rettili sinuosi